per persone per bene coloro che hanno il senso comune soprattutto il consenso e si chiedono poche cose ma sono sempre quelle quindi intendendo quel tipo di borghesia piuttosto diciamo dura eccesso oggi non non guardabile in maniera positiva cioè non è una borghesia illuminata quella di cui usufruiamo tutta europa anche nell'occidente